Il nostro tempo ha un grande bisogno di speranza. Con queste parole Papa Francesco ha accolto i pellegrini della diocesi di Cassano all'Oionio, visitata lo scorso 21 giugno. Tanti ricordi affiorati tra i pensieri del pontefice durante l'udienza, gli incontri con i carcerati, con i malati, con i sacerdoti, i religiosi, i seminaristi, con gli anziani, la visita alla cattedrale, al seminario e la missa nella piana di Sibari. Papa Bergoglio ha tratteggiato le bellezze naturali della Calabria auspicando il coraggio delle istituzioni affinché essa non sia sfregiata in maniera irreparabile da interessi meschini, così come pure la generosità operosa delle persone, costrette non di rado a confrontarsi con quanti per mero interesse personale seminano egoismo, violenza e ingiustizia. A tutti Papa Francesco ha chiesto di non scoraggiarsi e di andare avanti seminando sostegno per le famiglie e i giovani ai quali non può essere impedito di sperare. Infine un richiamo, non si può dirsi cristiani e violare la dignità delle persone. Quanti appartengono alla comunità cristiana non possono programmare o consumare gesti di violenza contro gli altri e contro l'ambiente. I gesti esteriori di religiosità non bastano per accreditare come credenti quanti con la cattiveria e l'arroganza tipica dei malavitossi fanno dell'illegalità il loro stile di vita. A quanti hanno scelto la via del male e sono affiliati a organizzazioni malavitosse, rinnovo il presante invito alla conversione. Aprite il vostro cuore al Signore.